ciao a tutti un aggiornamento oggi è il 14 di ottobre sono passati quindi più di mese da quando ho cominciato a piantare i cipressi e vi faccio vedere che cosa sta succedendo come vedete qui ho creato una piccola serra perché le giornate cominciano a diventare fredde le notti ancora più fredde e niente quindi vi faccio vedere anche come sta procedendo nel frattempo ho più di 100 alberelli in questo momento sono 120 però non solo cipressi questi sono i cipressi proprio questi sono i primi che ho piantato e che quindi stanno crescendo come vedete poi sempre di più quelli più recenti più recenti e quindi sono ancora un po piccolini qui sotto ci sono quelli ancora più recenti piantati nell'ultimo mese nel frattempo si vede anche che qui per esempio siccome qui ho piantato i carrubi questi sono i carrubi lui è proprio il primo sopravvissuto di tanti che ho piantato proprio all'inizio va bene qui adesso ce ne sono altri questo è un altro però in questo momento vabbè ci interessano i cipressi e nulla come si vede stanno crescendo piuttosto bene sembrerebbe io spero che l'inverno non non li danneggi adesso non sto dando l'acqua tutti i giorni ma a un certo punto ho fatto un giorno sì un giorno no adesso gli sto dando ogni due giorni l'acqua quando vedo che comincia a quando comincia a seccarsi il terreno e poi il venerdì ne metto un po di più in modo che sabato e domenica quando non posso essere qui a curarle insomma non soffrano e abbiano ancora un po di acqua qui ce n'è una carina proprio che che sta crescendo proprio bene piccolina e niente nulla questa era questa era la situazione al 14 di ottobre abbiamo cominciato il 28 di agosto a piantare e questa è la situazione vi aggiorno prossimamente ciao